Due settimane di stop in casa Vezzano per smaltire la delusione di Notaresco che ha portato alle dimissioni di mister Ferrazzoli, rifiutate dal patron Pecorelli. Al De Marsi arriva Loinete e Del Riccione, imbattuto nel 2024 e redduto da tre vittorie consecutive. Per i marsicani l'obiettivo è restituire serenità alla piazza e restare aggrappato alla vetta. Fondamentale il rientro di Verna a centrocampo, davanti altra chance per la coppia Tuncara-Roberti, pronti a subentrare Senesi e Ortolini. Dall'altra parte Riolfo può contare sul peso offensivo della vecchia conoscenza abruzzese Francesco Maio, lo scorso anno al Pineto. Per la difesa bianco-verde il pericolo è rappresentato anche da Samb, dirige Matteo Moncalvo di Collegno. La pressione Romagnoli in avvio è alta ma non porta a grossi pericoli. Al quattordicesimo Caponi pesca Samb che sfiora di testa, brusca controlla l'uscita della sfera. Strada facendo l'Avezzano alza un po' il baricentro ma l'unico tentativo Velletario porta alla firma di De Silvestro. Alla mezz'ora proprio il numero 20 è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico. Entra Senesi, al trentaduesimo arriva la possibile svolta del match. Tuncara sembra lanciato verso la porta. Caponi lo stende con un fallo da ultimo uomo ma il direttore di gara opta per l'ammunizione. Con le immagini di mano al centurame passiamo alla ripresa. Dopo appena trenta secondi Golia penetre in aria sulla sinistra, Rossi ci mette una pezza. Al quarto siamo già dall'altra parte. Ottima combinazione tra Maio e Samb, tacco a liberare Tonelli, libero di crossare per Diodato che schiaccia troppo la conclusione. Al nono si sblocca la contesa. Tocco illuminante di Senesi a servire Golia che dalla sinistra pennella alla perfezione per l'incornata di Tuncara che trova la prima rete in bianco-verde. Il De Mar si esplode anche cinque minuti più tardi. Stavolta l'assismenne Tuncara che dalla destra serve Verna a rimorchio. La palla scheggia la traversa e si accomoda sotto l'incrocio. Subito gol al rientro per il classe 94. L'1-2 non segna però la resa del Riccione che al diciottesimo del via alla rimonta con il neo entrato Ferrara, bravo a sfruttare un traversone dalla sinistra. Il secondo tempo è divertente. Al ventunesimo Roberti sfiora l'Eurogolle dalla tre quarti. E al ventisettesimo Tuncara si libera ancora bene dalla destra. Cross per Senesi che non trova la porta. In mezzo lo schema da calcio di punizione con Maio che prova a sorprendere Brusca senza successo. Un minuto più tardi il signor Moncalvo di Collegno assegna il penalty ai Romagnoli. Punito il contrasto tra Verna e Ferrara. Enormi le proteste bianco-verdi. Dal dischetto Maio è glaciale. Brusca intuisce ma non può nulla. Nell'ultimo quarto di gara l'Avezzano prende d'assalto l'area avversaria. Prima viene annullata la rete a Filippini. E poco più tardi si genera un flipper che non porta l'effetto desiderato. Nel recupero Angelilli protesta per una presunta trattenuta ai suoi danni. Per Moncalvo è tutto regolare. Tra le polemiche anche dopo il triplice fischio Avezzano-Riccione termina 2-2.